Al fine di realizzare politiche abitative in favore delle persone con difficoltà sia economiche, in grado cioè di non pagare il canone mensile, che burocratiche, con problemi ad esempio legati alle pratiche da presentare per affittare un appartamento, nascerà l'Agenzia dell'Abitare a Crema. È un progetto che rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale, ma potrebbe diventare in realtà solo il prossimo anno. L'Agenzia dell'Abitare si trova tra gli obiettivi, l'istituzione di questa agenzia si trova tra gli obiettivi del nostro piano di governo territoriale, piano di zona, che trova il comune di Crema come comune capofila di tutti gli altri 48 comuni. L'Agenzia sarà un ente che avrà come compito di governare quelle che sono appunto le politiche abitative. Quindi in concreto darete una mano a persone in difficoltà per quanto riguarda le abitazioni? Sì, nel concreto daremo una mano però a livello proprio territoriale in tutti i 48 comuni alle persone, non solo le persone in difficoltà, ma proprio alla gestione di quelli che sono appunto i processi abitativi. Quindi oltre alla mediazione abitativa tra inquilini e eventualmente l'Aler o comunque l'ente che amministra l'alloggio popolare, ma anche a livello burocratico, a livello burocratico e amministrativo. Quindi predisposizione di questi piani annuali e trennali, il reperimento dei fondi per gli inquilini morosi non colpevoli o comunque per chi non ha le disponibilità economiche per poter pagare il canone di locazione. Le polemiche non si fanno però attendere. Il Comitato inquilini case pubbliche di Crema vorrebbe chiarezza riguardo alcuni aspetti del progetto e chiede al Comune se l'Agenzia dell'Abitare assumerà le competenze ora in mano di Aller, che provocano forti malumori dei cittadini in affitto nelle case popolari. È una cosa da valutare. Abbiamo già incontrato il Comitato degli inquilini delle case popolari, abbiamo spiegato cosa prevederà l'Agenzia dell'Abitare. Qua stiamo parlando di un tema di gestione amministrativa. L'Aler è l'ente gestore regionale sia da punto di vista amministrativo ma anche da un punto di vista tecnico. Qui l'Agenzia dell'Abitare in un certo senso non dico che sostituire, sono due cose diverse e dato che stiamo riempiendo di contenuti questa Agenzia dell'Abitare bisognerà valutare di che tipo di contenuti possiamo riempire e riusciamo a riempire.